ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video vlog barroche che riccio come state spero bene nuovo video innanzitutto pallereccio che riccio come suol dire allora ho fatto questo video che spero che vi possa piacere che vi possa interessare si lo sfondo è questo come vedete voi il letto è tutto bello fatto quindi non avete da lamentarvi allora niente ragazze ragazzi miei sono stata un po in giro ho fatto varie attività e poi ovviamente vabbè lo so mi vedete sudata perché lo so non sono sudata non so se si nota ma sono tutta sudata in faccia e vai già quindi nulla ragazze che dirvi era solamente per dirvi che volevo postare un po con voi e niente mi auguro che questo video mi possa piacere perché è un video per intrattenervi un po anche se vabbè un video così di qualche minuto e poi però scappa a mangiare perché ho già fame e niente vi volevo dire innanzitutto che sì mi sto divertendo a stare anche senza fare video ma continuo a fare gli stessi video e le stesse video che riccio perché a me i video chiacchierici mi piacciono un botto e quindi non vedo perché non devo fare i video chiacchierici sì non parlo di nulla perché è vero questi video non sanno di niente però mi piace farli e per questo sembra della tua così stupida in guardatura stupida non si può sentire però è così ma così non funziona come mettermi per fare una benedetta miniatura ok fatto dunque ragazzi miei ragazzi miei oggi mi sono truccata con solo una cosa ovvero la terra bronzer l'illuminante che poi avesse andato a quel paese se n'è andato ho usato questi due pennelli e basta maschera non ne ho messo ho messo anche il correttore ho messo questi due uno per l'illuminante che lo vabbè lo si poserà anche per il correttore ma io ribadisco i pennelli uno ci può fare quello che gli pare ovviamente questi sono i pennelli vedete un po' ciaccetti però li usati stamattina tra un po' li porto a lavare perché mi sembra il caso di portarli a lavare che è meglio allora ragazzi miei io oggi mi sono vestita così non so se si nota vedete sono vestita così ho i pantaleggings sono molto comodi e molto freschi e ci sto benissimo già niente ragazze io questi giorni dovrò farmi la ceretta perché ne ho bisogno di farmi la ceretta non si può più stare così e si ragazzi ho bisogno di farmi una bella cura del corpo e niente ok va bene non controllavo se la luce era apposta tutto lì nulla il mio outfit l'avete visto la borsa è sempre la stessa non è quella grossa capiente così ma è un'altra che è altra collo stavolta non l'ho comprata è sempre la stessa perché non mi andavo a disprecare i soldi per comprare una borsa che poi vabbè non so quando riuscirò a comprare ne altre quindi al momento mi faccio bastare quella che ho sì ho un plurito all'anca che non vi dico sì ho veramente molto plurito all'anca vabbè la crema me la metto sempre non capisco da dove mi proviene questo plurito vabbè niente bene ragazzi questo era tutto oggi sono andata sono andata a fare a fare una passeggiata tutto oggi e stamattina invece ero tutto il giorno a casa a guardare i vostri video perché la verità ve lo giuro comunque niente se questo video vi è piaciuto mettete un bel like che vi sopporto un commentino e iscrivetevi e attivate la campanella qualora voi deciderete di iscrivervi al mio canale youtube ciao a presto buona serata e buon appetito a tutte ciao